ciao a tutti sono riccardo mazza e vi parlo dagli experimental studios di torino come potete vedere sono un grande amante dei sintetizzatori e per questa ragione sono molto contento di partecipare quest'anno al soundbeat faremo un piccolo workshop utilizzando sintetizzatori prevalentemente analogici ma non solo nella sonorizzazione di filmuti vedremo un po di patch ci divertiremo qualche scelta sulle macchine quali perché in che modo e finiremo con una piccola dimostrazione una sonorizzazione vera e propria un episodio del 1919 tratto da affare misterioso di edgar han la po una cosa divertente vi aspetto ciao